Attacco all'Unione anche a Battipaglia, dove questa notte la bandiera europea è stata oscurata con quella italiana su alcune delle principali opere cittadine. Gli anti-europeisti convinti sono i membri dell'Associazione Battipaglia Nostra, che la scorsa notte hanno messo in atto il raid. Pochi sono a conoscenza che dal 2000 al 2017 l'Italia ha versato all'Unione Europea circa 259 miliardi di euro, spiegano i membri dell'Associazione, citando i dati della Ragioneria Generale dello Stato e quelli della Commissione Europea. I soldi, tornati indietro sotto forma di fondi strutturali, si sono però fermati a 173, con uno sbilancio di 86 miliardi. Prosegue l'onda anti-europeista sulla scia della polemica che ha coinvolto anche la politica nazionale. L'Europa non ci dà un tubo, dichiara il Presidente dell'Associazione Carlo Zara. Lo sbilancio tra ciò che diamo e ciò che riceviamo è a nostro sfavore. I soldi, prosegue, vanno gestiti dagli enti locali senza indicazioni e imposizioni dall'alto. Questa opera pubblica è stata realizzata grazie agli italiani e stato il claim del blitz. Grazie a tutti.